Una cifra che oscilla fra i 2 milioni e i 2 milioni 200 mila euro. Sono i danni che l'AMAT di Imperia chiede alla provincia all'interno di un ricorso al TAR presentato dall'ex municipalizzata del capoluogo e volto a ottenere l'annullamento delle delibere con cui Assemblea dei Sindaci Prima e Consiglio Provinciale Poi avevano approvato il crono programma per la ristrutturazione di riviera acqua e l'acquisizione da parte della società pubblica di gestione del ciclo idrico della stessa AMAT. I vertici di AMAT hanno evidenziato che la società imperiese non si vuole opporre all'acquisizione delle reti da parte di riviera acqua ma non può accettare che non vi siano certezze circa il pagamento del relativo valore stimato attorno ai 23 milioni di euro da parte della società pubblica. Non solo, AMAT accusa la provincia di aver portato avanti con continui rinvii l'acquisizione causando appunto gravi danni alla società imperiese costretta tuttora a gestire le reti senza poter contare su adeguamenti tariffari e quindi con forti perdite. Analogo ricorso al TAR volto a ottenere l'annullamento delle delibere provinciali è stato avanzato anche dall'Aiga di 20 miglia. Tanto AMAT che Aiga a causa della situazione creatasi attorno alla gestione del ciclo idrico provinciale sono dovute ricorrere al concordato preventivo come del resto pure riviera acqua per evitare di fallire.